A volte, quando stiamo allo scurso, molta gente dice ma se io moro in un lugar tal, là è molto difficile, è praticamente impossibile incontrare creme di lecce, no, usa manteca, non incontra manteca, usa una cultura, per esempio, olio di cocco senza sabore, ora, io l'unico sorveccio che non aconsegno a tirare la cultura lattea è un fior di latte, perché un fior di latte se tiriamo la cultura lattea, stiamo tirando il sabore, la cultura lattea è un sabore tipico, ok? Ora, io ho fatto provi, ho fatto provi anche nella sorvetteria, e anche in altri sorvecci io preferisco non usare la cultura lattea, perché sconde il sabore della materia prima caratterizzante, ok? Io preferisco usare, a volte, molto più, un olio di cocco senza sabore, rispetto a un creme di lecce o una manteca o altro tipo. Ciao! Ciao! Ciao!